che cosa sono i fiori non senti in loro come una vittoria la forza di chi torna da un altro mondo e canta la visione l'aver visto qualcosa che trasforma per vicinanza per adesione a una legge che si impara cantando si impara profumando che cosa sono i fiori se non qualcosa d'amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa che cosa sono se non leggere ombre a dire che la bellezza non si incatena ma viene gratis e poi scema sfuma e poi ritorna quando le pare chi li ha pensati i fiori prima prima dei fiori